Hanno studiato a lungo lo spaviglio, Hanno studiato approfonditamente, Hanno scoperto che non è un raglio, Ma di preciso non se ne sa niente. Si sa che viene quando si è annoiati, Se si ha solo fame o per fatica, Ma anche se sia un po' intimoriti, Ma cosa proprio sia non si sa mica. Forse è fame d'aria per reagire al sorno, Alla paura, alla stanchezza. Forse è un modo per non far vedere, Quando si è deboli la debolezza. Mi sicuro si sa che è contagioso, Se lo vedi lo fai immediatamente, In questo assomiglia al sorriso, Un gesto che si specchia nella gente. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.